Occhio al pesce fresco che arriva sulle tavole. 8 volte su 10 è un prodotto straniero, oppure è surgelato. È l'allarme alimentare lanciato da Coldiretti, commentando la notizia dello sbarco nel porto di Bari di una nave turca con un carico di 358 tonnellate di prodotti ittici provenienti dall'Argentina. Sono gli effetti del fermo pesca che, come noto, ha decretato lo stop di tutte le attività della flotta italiana lungo il Mar Adriatico al 27 agosto. Il settore, fa sapere Coldiretti, soffre la concorrenza sleale dei prodotti importati dall'estero e spacciati come italiani, grazie all'assenza dell'obbligo di etichettatura dell'origine. Questo ha determinato nel corso degli anni un crollo della produzione in Puglia, oltre alla perdita di oltre un terzo delle imprese operanti nel comparto e di circa 18.000 posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni che sono salite dal 27 al 33%. I numeri del settore pesca nella regione, sottolinea Coldiretti, sono di assoluto rilievo in quanto il loro valore economico è pari all'1% dell'intero pil pugliese e arriva sino al 3,5% se si considera l'intero indotto. I dati parlano di 1.500 imbarcazioni, 5.000 addetti e 10 impianti per acquacoltura e mitilicoltura. Le aree maggiormente specializzate sono quelle di Manfredonia, Molfetta, il Sudbarese e il Salento, dove il pescato più importante è costituito da gamberi, scampi e merluzzi. La crisi del settore ittico, conclude Coldiretti, si trascina da circa 30 anni in un mercato, quello del consumo di pesce, che aumenta ma che è purtroppo sempre più in mano alle importazioni.